ciao a tutti benvenuti nel mio canale BumbreTube faccio questo video perché volevo presentarvi il protagonista dei video che ho fatto e che farò ho scelto una location abbastanza triste isolata in mezzo al nulla ci troviamo a Fagnanolona un paese piccolo nella provincia di Varese di Lombardia e niente volevo appunto presentarvi lui che è il mio sim jet 4 un cinquantino motorino semplice semplicissimo molto molto economico consumi bassissimi davvero bassissimi motore robusto resistente adatto a fare tanti chilometri ne faccio una marea come potete vedere l'ho preso che aveva su la bellezza di 6.000 chilometri adesso ne ha su 14.578 niente reduce da un piccolo incidente avuto con una macchina contro una macchina chiaramente fortunatamente nulla di grave qualche segno non importa e quanto comodo per due si può viaggiare tranquillamente senza senza problemi è vero va piano cinquantino però va io montagna lago fiume ovunque lui e niente faccio questo video appunto in questa località in questo punto di questo paesello dove tutto è finito con con un alfa romeo 145 potete trovare il video uno dei primi video caricati e dove tutto ricomincia con con lui il nuovo acquisto poi più avanti più avanti sarà un'altra new entry e questo è quanto mi raccomando andate piano per chi guida guida di competenza ciao a tutti